il nome di questa sequenza deriva dall'inglese sandwich un altro nome è mordida perché i piedi dell'uomo prendono i piedi della donna è un tipo di parada che si presta molto agli avvelimenti di entrambi i ballerini e ha varianti come il reloj grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti